Buonasera a tutti, noi siamo il Corpo Bandisco Castinese Francesco Solia, un complesso musicale costituito nel 1991 sulle ceneri della Regia Banda Cittadina, grazie all'impegno di 16 musicisti e fondatori. Ringraziamo tutti voi presenti, in particolare la banda di Ocimiano che quest'anno ci ospita per la Rassegna Banda Bica in collaborazione con noi di Macchia Monti. Questa sera vi porteremo con noi in un viaggio musicale tra la tradizione italiana e quella internazionale, tra musica melodica e con la pop. Quindi, signori e signori, il Corpo Bandisco Castinese insieme ai maestri Giulio e Stefano auguro a tutti voi buon ascolto e un buon divertimento. Iniziamo con il concerto con metri di brani che sicuramente riconoscerete. I Queen sono un gruppo britannico nato a Londra nel 1970, dall'incontro tra Freddie Mercury Roger Taylor e Brian May, a cui questo è giunto John Deacon nel 1979. Dopo solamente dieci anni di lavoro esce la loro prima raccolta di successi Greatest Hits e singolo dopo singolo riempiono tutti gli stadi del mondo contando circa 700 concerti. Il prezzo che vi proponiamo questa sera è un misto delle loro canzoni più famose, quindi a voi buon ascolto. Grazie. 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 Applausi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. non può paeseare!